15 furti commessi, un'altra quarantina sfumati solo per il transito in strada di una pattuglia dei carabinieri o per il riento anticipato in casa dei familiari delle vittime, soprattutto anziani e alcuni malati di cancro. Bottino complessivo 200.000 euro. La banda, composta da 17 persone, è stata sgominata dai carabinieri tra Eschitella, Carpino e Rodi Garganico. 11 gli arrestati, un obbligo di dimora notificato e 5 ricercati. Tra loro anche due autisti di una società che ha ottenuto l'appalto dall'AS di Foggia del Servizio di Emergenza Urgenza. Si tratta di Pietrantonio Voto, 51 anni, di Eschitella e Tommaso del Conte, 50enne di Carpino. Ricercato invece un barelliere, ai domiciliari sono finite la moglie e la figlia di quest'ultimo, Anna Dioniso, di 52 anni, e Angela Pia Del Rico, di 22. La conoscenza delle vittime individuate per i furti, commessi soprattutto tra Eschitella e Carpino, era facilitata dal lavoro degli operatori sanitari, che potevano accedere alle abitazioni delle persone che chiedevano l'intervento d'urgenza. Gli indagati venivano così a conoscenza delle patologie degli anziani e dei periodi d'assenza per le necessità terapeutiche, come chemio e radioterapie. Gli indagati riuscivano a ottenere le chiavi, che sottraevano per fare i duplicati, di cui si servivano per entrare nelle case senza effrazioni, con la collaborazione di alcune donne, soprattutto Anna Dioniso e Angela Del Rico, che si offrivano per lavorare come badanti solo per impossessarsi delle chiavi stesse. La banda avrebbe assoldato alcuni cittadini dell'Est per compiere furti, come nel caso dei 43.000 euro rubati in un'abitazione a Focevarano o il tentativo di rubare in un'altra casa Eschitella nel giorno del matrimonio del figlio della vittima.